Nuovi fermi di scafisto oggi a Pozzallo durante un'operazione portata a compimento dalla Polizia di Stato, per grave indizie di colpevolezza, finiscono infatti sotto accuse in 5. Usman Dong, senegalese di 34 anni, Yafaru Imok, nigeriano di 24 anni, Yosuf Zwar, senegalese di 26 anni, Yalbabri Kuitak, gambiano di 23 e Seydou Sadio, senegalese di 33 anni. Avono cercato di condurre in pratica 369 migranti verso le coste siciliane. Determinante al loro riconoscimento e individuazione sono state però le immagini fotografiche scattate dalla nave di soccorso durante le fasi di avvicinamento ai gommoni da soccorrere, immagini che hanno immortalato proprio gli scafisti in posizione di comando. Con questi 5 fermati sale a vento il numero di scafisti intercettati quest'anno dalla Polizia, tra cui un solo minore. Intanto in quest'ora sempre a Pozzallo è approdata la nave mercantile Ocean Carrier con a bordo 452 profughi. Sono già in corso le indagini per individuare gli scafisti di queste ulteriori imbarcazioni di soccorsa.